È vero che un'arancia può alimentare un led? Sì, o meglio più di un'arancia, come vedremo. Oggi è il 7 novembre, mi fa piacere ricordare che il 7 novembre del 1801 l'illustre scienziato Alessandro Volta presentava la sua idea di pila di fronte a Napoleone Bonaparte. Era una serie impilata per l'appunto di dischi di zinco e rame, con frapposti degli strati di feltro, imbevuti di una soluzione acida. Oggi, in maniera curiosa, riprodurremo questo esperimento, diciamo, con delle arance. Dunque, vediamo il principio alla base, è una reazione chimica di ossido-riduzione, zinco, che si ossida e cede due elettroni, al rame che li acquista. Vediamo dunque quali sono gli elementi costituenti l'esperimento. Avremo un'arancia dove immergiamo due elettrodi, uno di zinco, uno di rame. Avremo un diodo LED, un dispositivo elettroottico in grado di emettere fotoni, quindi luce, light emitting diode. E poi, a cosa serve l'arancia? Serve a fornire una soluzione elettrolitica acida in modo da chiudere questo circuito elettrico. Bene, notoriamente gli ingegneri non brillano per qualità grafiche, dunque vediamo in dettaglio l'esperimento. Misuriamo con un multimetro, o meglio un voltmetro, la differenza di potenziale di una comune pila o batteria stilo, 1,63V. Vediamo ora di confrontarlo con la differenza di potenziale che si crea fra i due elettrodi, zinco e rame, in un'arancia. Come anticipato, questa tensione è inferiore a un volt, non basterà un'unica arancia per accendere il LED. Vediamo dunque di costruire un circuito con delle arance in serie in modo da avere una differenza di potenziale o tensione sufficiente ad attivare il diodo LED. Dunque vediamo che il flusso di elettroni, dall'anodo al catodo, attiva il diodo LED. Un po' di sana frutta che ci dà energia. Un po' di sana frutta che ci dà energia.